Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube che vi offre tutta una serie di aiuti linguistici che vi sosterranno nello studio della lingua italiana ad ogni livello. Sono Giulio Madejkois, il vostro Italian Language Coach, e vi do il mio benvenuto sul canale. Voglio cominciare oggi un'attività che ha lo scopo di migliorare la vostra comprensione orale, indola paro. Certamente sapete già molto bene come la comprensione orale sia la parte più difficile e il processo più lungo nell'apprendimento di una seconda lingua. Con questa attività voglio mostrarvi come imparare e studiare l'italiano può anche essere divertente. Curiosi di sapere di cosa si tratta. Bene, dopo la sigla torno da voi. Voglio cominciare con il nome di questa attività, indola paro, che deriva dalla fusione di elementi provenienti da tre parole separate. Indovina la parola. Ho preso le prime quattro lettere della parola indovina, quindi indo, la seconda parola, la, e le prime quattro lettere di parola, cioè paro. Ed ecco il nome della nuova attività che vi propongo oggi. Indola paro. Vediamo ora come si gioca e che cosa dovete fare voi. Ascoltate attentamente le cinque definizioni che vi darò. Dal momento che questa è una nuova attività voglio aiutarvi. Sul vostro schermo vedrete le definizioni scritte con le loro traduzioni in inglese, quindi potrete sia leggerle che ascoltarle. Ciò nonostante tentate di ascoltare e di capire ogni definizione solamente sentendo la mia voce. Ricordatevi poi che nei prossimi indola paro questo aiuto non sarà più disponibile. Dopotutto è attività per migliorare la vostra comprensione orale. Ma torniamo a come si gioca. Per ogni definizione trovate una possibile risposta, soluzione. Confrontate tutte le risposte tra loro e scegliete quella comune. Mi raccomando, deve esserci una sola parola comune. La risposta comune è la parola da indovinare. Perché indola paro sia divertente per tutti? Ho bisogno del vostro input. Una volta indovinata la parola comune scrivetela nella sezione commenti qui sotto. Tra una settimana posterò il video in cui vi darò la risposta, ovvero la parola che avevo scelto. Quindi potrete confrontare la vostra risposta con la mia. Ma non è tutto. Siccome si tratta di comunissime parole, nel video soluzione vi farò vedere espressioni, modi di dire e usi principali che questo vocabolo ha nell'italiano di ogni giorno. Vediamo ora le definizioni. Prima definizione. Quasi sempre il braccio finisce con lei. Seconda definizione. Possiede palma ed orso, ma non è un vegetale. Terza definizione. Una lava l'altra. Quarta definizione. Quella del bene amato è una piuma. Quinta definizione. È sostantivo femminile, ma tutto irregolare. Buona caccia, mi raccomando. Scrivete la parola che avete indovinato nella sezione qui sotto. E soprattutto confrontatela con la mia parola tra una settimana. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto! Grazie a tutti!